Il tempo oggi non è dei migliori e domani le condizioni dovrebbero peggiorare, si regata? Noi siamo piuttosto fiduciori, sicuramente per quanto riguarda oggi si regaterà perché le condizioni previste dai bollettini, anche i peggiori, non parlano di vento superiore ai 20 nodi e quindi sarà una condizione assolutamente navigabile. Ricordo che non c'è un limite di vento stabilito dalla classe, tutto è nella decisione di John Clay che è il presidente del comitato di regata, domani si parla secondo alcuni di vento fino a 40 nodi, secondo altri di massimo 25, dite incrociate, aspettiamo di vedere veramente cosa succederà a Napoli. Comunque non è per fare i soliti discorsi positivi, siamo veramente fiduciosi che domani si possa regatare. E domenica? Domenica al momento i modelli sono tutti quanti concordi nel pronosticare un miglioramento delle condizioni rispetto a domani, quindi domenica si dovrebbe regatare senza problemi. È prevista secondo tutti tantissima pioggia ma questo non influisce sullo svolgimento delle regate. Quindi con queste condizioni meteo come la prima giornata, spettacolo assicurato per chi deciderà dalle 13.30 di seguire la terza giornata della Coppa America targata Napoli.